Il nuovo DAE ai visi del fuoco volontari di ULS, come segno appunto di questa nuova presenza sul territorio, un nuovo servizio sanitario qui a ULS in Corso Montenero, al servizio di chi e se da sempre, e sempre lo sarà, al servizio della cittadinanza. Quindi grazie davvero per questa donazione e grazie ai visi del fuoco per il loro lavoro. Grazie. Perché vogliamo essere parte di questo territorio e togliere quel turismo che va verso la Croazia per le cure dentali, quindi siamo qua, siamo qua per voi, ci presentiamo così alla comunità, vogliamo far parte del sociale e per il territorio, rimanere qui mal di Susa per tutto il futuro diretto. Capita stesso. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.